Simone è qui con me, siamo arrivati al livello numero 18 del free roll e lui è l'uomo bolla ed è un peccato davvero, il suo nickname potete leggerlo Janfo003 hai tenuto, hai tenuto e poi alla fine hai dovuto cedere, che è successo? Sì, ho fatto un grande errore, secondo a chiamare con 4-4 mi è venuto subito l'istinto di chiamare all-in ho trovato Jack Jack e sono rimasto praticamente con 10.000 fish la mano successiva a suo check, ho dovuto mandare naturalmente, ho trovato donna a donna e purtroppo sono fuori mi dispiace molto anche perché su un altro tavolo c'è stato un altro all-in era uscito un giocatore praticamente e quindi potevo rientrare nella bolla invece è andata malissimo perché ero più corto e quindi sono uscito diciannovesimo un vero peccato, però sono sicura perché il tuo nick lo conosco che farai benissimo sulla piattaforma SNAI, per cui non ti arrendere sorriso a degli occhi dolcissimi che belli che sono questi giocatori, grazie Simone grazie mille a voi fatti valere sì sì naturalmente, speriamo e allora livello numero 18 mi giro, 19, 6.000, 12.000 bui tra poco per il prossimo aggiornamento